Ogni soccorso dei sanitari del suo EMA 118 è stato vano. Non c'era fatta il piccolo imprenditore di origine marocchina di 53 anni finito contro il muro di un'abitazione dopo aver perso il controllo della sua auto in via 20 Settembre a Soresino lungo la provinciale 84. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte a chiamare il 112 un cittadino. Sul posto i carabinieri di Est e i vigili del fuoco per le verifiche del caso. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente. Il piccolo imprenditore residente a Sant'Elena viaggiava solo in quel momento.